dal festival io mi aspetto di imparare più sull'intelligenza artificiale di capire meglio come funziona conferenza su quantum computing come è stato questo talk molto interessante siamo molto stanchi da questa giornata perché era una giornata piena di stand secondo giorno di venti can adesso abbiamo finito un talk su generative eye di quantum black di mckinsey andiamo a fare qualche giretto per gli stand andiamo a fare un qualche giro sul simulatore pronti per andare a casa